ultimamente ero troppo ansioso quindi ho deciso di iniziare la meditazione ovviamente prima ho letto un po di libri sull'argomento ma questa è la teoria di quello che mi aspetterà prima cosa all'inizio sembra difficile ma poi dovrebbe diventare automatico step 1 bisogna trovare un momento durante la routine giornaliera in cui farlo parecchi studi indicano che è più facile creare una nuova abitudine quando la facciamo ogni giorno alla stessa ora io ho scelto la mattina appena sveglio step 2 bisogna trovare il posto dove meditare senza preoccuparsi troppo dei rumori ci sarà una spiegazione per quello step 3 bisogna sedersi in modo comodo inizialmente più che a gambe incrociate consigliano di stare seduti su una sedia provare a tenere la schiena dritta e senza tensioni se si vuole un cuscino può aiutare a stare più comodo e questo è tutto siamo pronti per iniziare la meditazione come andrà a finire lo scopriremo solo nei prossimi episodi